La mia avventura artistica nel 2012, diventando air model, attrice in una compagnia teatrale, ballerina di danza moderna, classica, balli latinoamericani, street dance e cheerleading a livello agonistico, cantante in un corretto di cui poi sono diventata direttrice e modella per shooting e sfilate. Il suo desiderio e i suoi sogni si sono realizzati. Giustamente è stato un percorso difficile, ma ora si sente molto soddisfatta.